amici bentornati sul canale 9.000 giri elaborazione oggi vi facciamo giornata di consegne oggi vi facciamo vedere un po di macchine che abbiamo terminato alcune di queste le avete già viste sui video precedenti comunque sono state terminate andiamo in consegna quindi partiamo da questa bmw m3 e 90 sulla quale abbiamo fatto diversi lavori di abbiamo siamo intervenuti per sistemare alcune cose che purtroppo neanche bmw è riuscito a sistemare questo è un cliente tedesco che ci ha portato la macchina disperato la macchina appunto tagliava un determinato numero di giri abbiamo fatto una serie di interventi di carattere meccanico adesso la macchina gira che è un gioiello abbiamo sistemato l'assetto questo è un assetto regolabile con ammortizzatori pss 10 quindi regolabili in compressione estensione e precarico molla gli abbiamo riverniciato e sistemato tutti e quattro i cerchi riprendendo il colore originale perché erano molto molto sofferenti ce n'erano alcuni fuori bilanciatura c'erano alcuni che avevano addirittura una crepa quindi abbiamo ripristinato il discorso cerchi e questa macchina direi che è pronta per essere consegnata questa è la macchina di mirko la saltiamo questa è la fiat coupé che abbiamo già visto precedentemente anche questo abbiamo fatto una messa a punto del motore abbiamo sistemato alcune piccole cose che però rendevano il funzionamento del motore non perfetto quindi abbiamo messo le mani se andate a vedere appunto il video precedente che cosa abbiamo fatto la macchina adesso gira regolarmente un orologio direi che il cliente sarà più che soddisfatto questo invece era una Honda Civic il model 1000 tre cilindri turbo la famosa Honda Civic anche qua andatevi a vedere il video dove il cliente dove questa macchina appunto ha la caratteristica di avere la cinghia di distribuzione a bagno d'olio cinghia distribuzione con la quale probabilmente il cliente ha fatto ha sbagliato il tipo di olio il tipo di olio ha corroso la cinghia ha polverizzato la cinghia che ha ostruito il pescante della pompa dell'olio pescante della pompa dell'olio che ovviamente ha fatto sì che la turbina si deteriorasse velocissimamente e altri componenti meccanici di conseguenza e quindi qua abbiamo fatto un bel lavoro di ripristino anche qua in Honda gli avevano appunto diagnosticato che il turbo non andava ma non avevano capito qual era la causa quindi come diciamo sempre al di là di quello che è un fatto evidente se la macchina non va è turbo e va come un aspirato probabilmente c'è qualche cosa nella turbina o nel circuito del turbo ma al di là del capire che la turbina va revisionata la cosa principale è andare a trovare la causa come dico sempre perché se noi avessimo cambiato la turbina e non avessimo capito qual era la causa e non fossimo andati a svontare quello che era la pompa dell'olio questa macchina nel giro di 500 mille chilometri e ritornava esattamente come ci è stata portata sul carroattrezze quindi è quella la differenza fondamentale non basatevi solo sulle diagnosi o su quelli che sono appunto diciamo le le indicazioni che che emergono da una digitazione che è fin troppo semplice sono tante cose che non emergono il discorso della pompa dell'olio se andate a fare una diagnosi chiaramente non mi viene fuori tanto per fare un esempio e sempre come macchine in consegna questa non l'avevamo mai presentata è una lada niva macchina simpaticissima su questa vettura abbiamo fatto tanti lavori di ripristino perché diciamo sono macchine che arrivano dall'ex unione sovietica sono macchine molto molto spartane sono macchine che hanno praticamente ereditato una meccanica delle delle vecchie fia 124 tanto per intenderci quindi sono macchine veramente antiche però vanno sempre non sono macchine abbastanza semplici ma nonostante che siano semplici alla fine i componenti meccanici si deteriorano quindi qua abbiamo dovuto veramente fare un'operazione di ripristino totale per cui ammortizzatori freni tagliando completo la parte meccanica quindi le varie guarnizioni coperchio punterie lo scarico diciamo che l'abbiamo ripresa nel suo globale e adesso la macchina è funzionata tutto l'impianto elettrico che non andava poi abbiamo fatto alcune aggiunte gli aveva messo questo portapacchi stile avventure nel deserto con la sua bella gomma sopra la tannica abbiamo montato questi farettini di profondità l'abbiamo resa ancora più simpatica di quello che era una macchina che ha il suo perché poi chiaramente può piacere non piacere ovviamente se paragonate i SUV di moderna generazione fa veramente ridere però devo dire che ha la sua peculiarità al suo aspetto che la rende molto molto simpatica quindi direi che oggi facciamo una svuotiamo l'officina perché andiamo in consegna con almeno quattro macchine direi che anche per oggi abbiamo detto tutto per qualunque informazione contattatemi in sede 027383175 io sono luca dal lunedì al venerdì mi trovate quando volete mettete un like che quello non vi costa niente iscrivetevi al canale soprattutto consultate il sito www.9milagiri.it all'interno del quale troverete tutto quello che noi facciamo io descrivo le varie cose durante i video però non posso spiegare tutto se voi andate a vedere il video nella parte sinistra c'è scritto tutto quello che noi facciamo a livello motore asset impianto frenante estetica o anche lavori se vogliamo più o meno banali e direi che per questo è tutto iscrivetevi al canale mi stavo dimenticando direi per questo è tutto ci vediamo al prossimo video un saluto un saluto